si parte con il tuo estratto in diagonale, si parte col piede destro, il tuo estratto di destro, il sinistro che incrocio sopra e qua c'è lateralmente a destra un scissor step, non è un scissor è un rock e vado in avanti con la gamba destra, non è proprio scissor, è un rock laterale, il piede sinistro si avvicina al destro, non è questo, ho un rock laterale e il destro torno avanti, questa è la prima ottava, puntando 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qui seconda ottava, due kick in avanti con la sinistra e qui devo girare sempre sulla sinistra con il tuo estratto e torno a due 12, tuo estratto col piede sinistro, il girato di mezzo, col piede destro il tuo estratto e il giro di mezzo e l'ultimo tuo estratto di nuovo a due 12, il tuo sinistro, cioè 1, 2, mezzo sinistra, 3, 4, mezzo sinistra, 5, 6, un posto con il sinistro, 7, 8, quindi da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, gioco un quarto a destra,125 e faccio due kidneyspratto andando leggermente in avanti, prima per il destro, 5, 6, con il sinistro, 7, 8, quindi fin qua, 7, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dopo il ultimo ultimo, dovrei effettuare un govil, girando un quarto a destra, cioè devo finire a 2.18, quindi adesso sono a 2.15, girando il mio ulteriore quarto a destra, imporcio la gamba destra sulla sinistra, sposto il piede sinistro, tacco o kick e flick indietro, sono qui, ho il peso sul sinistro, 1, 2, 3, 4, da qui lateralmente verso la destra 4, un passo ampio, 5, 6, uno slide di gamba sinistra verso la destra e 7, 8 sono due stomp, stomp up e stomp di gamba sinistra, stomp up vicino al piede destro e stomp in avanti incrociando davanti al destro, quindi sono qua così, govil con un quarto di giro a destra, finisco a 2.18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi ho il piede sinistro col peso ed è incrociato davanti al destro, per poi ricominciare a avere 18 la parte A, ancora, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vado avanti. La parte A corta è di 16 counts, sono due ottavoli, guardiamola, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parte B.